Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Ah, finalmente, che tanto questo è il mio motto del canale. Signori, benvenuti in questo vlog. Vlog che voglio raccontarmi cosa mi è capitato nel Natale, nel periodo di Natale, nel Secret Santa e a Capodanno. Allora, signori, prima di tutto, intanto vi ricordo di seguirmi su tutte le piattaforme possibili, quindi mi raccomando, andate in Instagram, informazioni. Cliccate sul link che è il mio sito web e lì ci sono tutte le piattaforme possibili da seguirmi. Tutti i canali, eccetera, eccetera. Poi anche per il supporto, eccetera, quello, tanto lo trovate lì, sul mio sito web. Allora, signori e signori, come è andato questo Natale? Come è andato questo 2023? È andato bene? Diciamo che c'è stata un'evoluzione riguardante me personaggio, solo che poi è morto il 31 dicembre, che sarebbe The Game of the Sparta. Ci sono stati cambiamenti del canale, eccetera, qualità video, qualità gaming. Sto Natale, come è andato? Bene. Mi hanno regalato un sacco di roba, dalla fan, poi mi hanno regalato vestiti, classici, poi soldi, vabbè, eccetera. Questi sono close così. E poi c'è stato il Secret Santa, il Secret Santa che mi sono divertito alla grandissima. Il Secret Santa che cosa consisteva? Che l'abbiamo fatto a Santo Stefano? In poche parole, noi gruppo di amici prendono un regalo, ok? Dopodiché, tramite un'applicazione, dovrai estrarre un nome di questo gruppo di amici. Quello che ti capita, gli dovrai regalare quel regalo a quella determinata persona. Ognuno riceve un regalo da una persona sconosciuta, da un amico sconosciuto, vabbè, capito, no? Il regalo è sconosciuto, però l'amico, gli amici sono sempre quelli, ecco. Io ho ricevuto non uno, ma ben due regali. Il primo, credo che stia qui dentro, ok. Allora, calcolate che me l'hanno dato due di questi. Questo, questo qui, è uno. Lancia Ragnatele. Ok, l'ho incollato nello schermo, vabbè. E diciamo che questo Lancia Ragnatele, che tu lo apri e lo metti per così, no? Quindi lo metti per così, vabbè. Ora non mi faccio vedere perché sarà un casino. Me l'hanno dato due di queste e mi hanno dato tre di queste. Per uno, quindi, ok. Bel regalo perché, quindi, Spider-Man va bene. E poi mi hanno regalato uno spazzolino da denti di Spider-Man. Ma questo è particolare perché appena tu lo appoggi in una superficie, si incolla, si attacca e si illumina di rosso. È per bambini, però io l'ho utilizzato. Mi sono lavato i denti con quello. Anche se proviene dalla Thailandia che ci hanno fatto un nito con dei scarafaggi e dei vermi della terra. Non lo so, però l'ho usato e sono stati i regali più belli della... Perché mi ha fatto ritornare un po' bambino, ecco. Quindi va bene, grazie per i regali. Per chi vede questo video lo sa. E soprattutto ci sono stati dei regali ambigui. Per esempio a un mio amico gli hanno dato una titta finta che tu puoi effettivamente stringere come antistress. Ora, per quanto riguarda questo video non conterrà contenuti di patriarcato, però credo che un regalare a una persona una titta finta sia un po', come dire, maschilista. Ecco, però va bene. È una cosa tra uomini, quindi ci sta. E invece un altro amico gli hanno dato una scatola con dentro. Questo video sarà vietato ai minori, assolutamente. Dei cazzi finti di confiabili, che tu soffi e si gonfiano, con della cintura che tu attacchi qui, cioè lo attacchi alla vita, tu ci attacchi tramite scotch questo cazzo, che è grosso così, un po' più grosso, e tu ci devi lottare con quell'altra persona che c'è lo stesso cazzo in pavoro a chi fa cadere il cazzo vince. Cioè chi lo fa cadere all'altro? Mamma mia. È stata una serata. Lasciate perdere. Vabbè. Poi il Capodanno mi sono divertito, sono stato con i miei, mi sono divertito uguale. Invece i miei amici sono andati a Maccarese, a Montesina, a farsi 60 euro di biglietto, senza neanche bere. Direi che è una po' una puttanata. Però vabbè, non lo so, vabbè. Comunque non posso giuridicare perché io sono stato con la mia famiglia, mi sono trovato benissimo, non è un problema. Poi questo video lo sto registrando, mentre oggi la Befana. Quindi auguri di Befana a voi. Va bene. Mi sono, c'ho la cioccolata di là, ragazzi. Lasciate perdere. Io vado a Diarrea stasera, vabbè. Dettagli particolari. Niente, quest'anno, l'anno 2023, mi ha dato delle soddisfazioni enormi riguardante lavoro, riguardante vita privata e tanti progetti che io mi sono realizzato. Per esempio, chi può ben ricordare, verso il primo aprile del 2023, sono andato a Romics con i miei amici. Poi, verso l'estate, sono sempre stato con i miei amici alle giostre di Tarquinia. Ci siamo divertiti. È stato bello, molto bello. Poi ci sono stati altri momenti. Mi è arrivato il gatto. Cioè, mi è arrivato, ho preso un gatto di nome Zeus. Pensavo che all'inizio fosse femmina, poi mi ha strusciato il cazzo sul braccio e quindi è diventato maschio, automaticamente. Poi ho... aggiornamenti del canale e poi 2024. 2024 che sarà un anno riproduttivo per quanto riguarda il lavoro, perché, come potete vedere, mantengo sempre le promesse, ogni giorno state vedendo sempre i video. Anzi, in questo momento sono le 2 del pomeriggio, quindi, in teoria, questo video lo state vedendo alle 2 del pomeriggio, quindi, ok. Ma ogni video che metto sono sempre le 2, tranne i mercoledì, che i mercoledì porto il gameplay sul secondo canale. Ok. Che poi vi dico, ragazzi, vi spiego una cosa che non l'ho messa nelle News 4. che ve lo dico adesso. I gameplay vi li porto, sì, per la prima settimana, quindi dal primo fino al 7, vi porto i giochi, ok. Poi, dalla settimana, quindi dall'otto in poi, solo di mercoledì, porto i videogiochi, perché farle un video una volta al giorno sarà difficilissimo e non voglio farlo. Quindi, ok. Quindi, una volta nel secondo canale Lorenzo Danna Gaming, io sono sempre la persona che cambia sempre idea, porto un video, videogioco, ogni mercoledì. Credo che sia abbastanza, darà mezz'ora e cinquanta minuti, ma vedi, quella è l'ora, diciamo, il minutaggio dei video, quindi, ok, si sta, e basta. A posto così. Quindi, va bene. Forse farò anche due video, vedete, cambio sempre idea, cambio sempre idea, forse faccio tre video a settimana sul secondo canale da gaming, quindi, vediamo un po' come si mette la situa, va bene? Signori, grazie mille per aver visto questo video, questo è un vlog, fatto così, con due parole messe in croce, però, diciamo che, volete sapere, mi sento bene, ok? Mi sento bene, sto realizzando uno dei miei sogni, tant'è che è l'ultimo dell'anno, sono arrivato a 90 iscritti, che per voi non sarà un cazzo, ma per me invece contano, 90 persone che ti seguono. Per me è già tanto. Signori, grazie mille per aver visto questo video, mi raccomando, vedetevi tutti i video che verranno, non vi preoccupate, perché ogni giorno, mentre ne pubblico, ne faccio, eccetera, io trovo sempre altri video da fare, anche se sono vecchi, cioè, ovvero, che vuol dire? Vuol dire che io le registro prima, che poi verranno pubblicati due, tre settimane dopo, sono vecchi, però sempre lì porto, non vi preoccupate. Grazie mille, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.